Salve amici, sono nel posto dove gli italiani fanno la spesa, d'Aldi, venite con me! Qui troverete il gusto e la convenienza in tutte le loro sfumature, ma forse lo sapete già, visto che sono ormai più di 50 i negozi Aldi aperti in Italia. Per festeggiare questo traguardo importante abbiamo pensato a un'iniziativa davvero speciale, 50 volte Aldi! Un solo obiettivo, conquistarvi con i vostri piatti! Da Aldi troverete 50 prodotti scontati fino al 50%, venite a scoprirli e riempite il carrello per creare il piatto più bello e buono che potete! Fotografate e condividete su Instagram con l'hashtag 50 volte Aldi, il migliore verrà scelto per gustare una cena pazzesca per due persone al mio ristorante! Vediamo chi riesce a conquistarmi in cucina, io intanto comincio a fare la spesa!